si vede avvicinati di più sono tanto vicino è andato in cortocircuito guarda che roba porta a vedere l'inchiostro che scorre è in difesa cioè ragazzi la prima volta dopo secoli di pesca che vedo una seppia questa è la testa di una seppia che dopo sei ore che è stata catturata ancora i mutamenti ragazzi è una testa è una cosa incredibile praticamente probabilmente i centri nervosi non li ho colpiti ma è una cosa pazzesca ragazzi ok